E fu così che il dubbioso mirava la roccia e si chiedeva Ma qui c'era casa mia? Sì che il dolore lo invase ed ei realizzò Ci hanno inculato la casa, raga Ci hanno fottuto la casa Ho fatto male i miei calcoli Perché naturalmente, e non è che entro una volta a settimana io per registrare Si è connesso un altro insieme a me Attenzione ragazzi Ho fatto male i calcoli col palo Pensavo, boh, dall'ultima volta di essere coperto Invece ci hanno inculato la casa Non sono troppo triste perché di fatto, come vedete Abbiamo un sacco di roba buona addosso L'unica cosa magari che valeva la pena avere E che invece abbiamo perso Ci hanno portato via il motore dell'auto, vi ricordate? Però la trivella, il forno, benzina, sti 30 cosi Abbiamo addirittura un altro palo Delle cassette Un sacco di materiali Quello abbiamo tutto Però dispiace perché era una bella casina Potrebbe essere uno stimolo per farcene una migliore Porcaccia vacca ragazzi Bisogna veramente stare attenti qua E non aspettano un attimo Va detto che noi abbiamo fatto tante di quelle rapine Che naturalmente prima o poi Sarebbe toccato pure a noi E questa cosa ci sta La dobbiamo accettare Non è che possiamo sempre pretendere di essere noi gli scassinatori Una distrazione può succedere Che poi sempre che in effetti Non credo che abbiano usato il C4 per abbattere proprio la nostra casa Perché non è che fosse proprio fantastica vista dall'esterno Quindi perché sprecare un C4 proprio sulla nostra casa? Io credo di aver fatto un errore Di aver dimenticato Di aggiornare il palo Facendo male i calcoli E quindi ci hanno fottuto Ma capita Adesso sto andando nel luogo dove c'era quella casa di quel tipo L'ultima che abbiamo rapinato Vi ricordate? A parte che c'è un tizio nel server appena entrato Che spero non sia lui Quindi attenzione Dovrebbe essere da ste parti Vedere se Eccola lì la casa Ma Ma Cos'è sta roba? Oddio un cartello Come si fanno a mettere il... Questo non c'era Ghecche Huizie Ma che cazzo Vordi? Ma dai Ma scusa Ma questo non rientra nella sua proprietà Chi o Chi o che arriva Gli può cambiare la frase Che Magari quello che c'era Cos'era? Ghecche Che so sti rumori Che cosa voleva dire? Non si sa Però ho idea che questo allora Ecco infatti L'ha protetta la casa Allora probabilmente c'era scritto Brutto bastardo I'll come Again Ghi ho lasciato un messaggio un pochino più serio e brutto stavolta Per chi lo sapesse l'inglese Ho scritto Tornerò Così Proprio da infame Da cattivone misterioso Adesso lui si è protetto Ragazzi Noi siamo senza casa Ma abbiamo un problema Abbiamo l'inventario tutto pieno E quindi Se vogliamo raccogliere E fare qualcosa Insomma Dobbiamo trovarci in altro posto In altro buco Sapete cosa si potrebbe fare? Una tattica sarebbe Invece di sprecare pali Perché in realtà No Non è detto che qualcuno Abbia visto la nostra casa là sopra È che il palo è scaduto Il solito problema E ha fatto la fumara Classica Avendo visto il fumo Secondo me ci hanno sgamato la casa Ma magari Se non avessimo avuto Quel problema lì Chissà se magari La casa sarebbe stata Intatta Non l'avrebbe vista nessuno Ed ecco perché Vorrei trovarmi Un altro posticino Nascostino Per farne un'altra Faremo una cosa piccola Ragazzi E ci mettiamo dentro Qualcosina In modo da Avere l'inventario Un pochino più Più vuoto Semplicemente Deve essere un posto però Porca misena Dove nessuno Gli viene in mente Di andare Sto salendo qua Ad esempio Per campi Per monti Che potrebbe essere Qua c'è un tavolo Ad esempio Perché se no Io Sapete cosa faccio Lascio una cassetta Da qualche parte Ecco Guardate qui Qua no Secondo voi qualcuno Vi è Oh cazzo Non solo viene Ma ci abita pure Vedete Sono furbi Si trovano i posti nascosti Vediamo se E vabbè Allora ditelo Cioè sta serie Che cos'è I rapinatori selvaggi Boy ragazzi Questa è una casa seria Vediamo cos'ha questo Ah Queste qui sono Allora Questa maschera La metterei Vi faccio vedere No non posso farvi vedere mai Perché non si gira indietro Sti imbecille Questi qua Sono verniciature Per Per i quad Altre maschere Altro carbone Altra benzina Prendiamo tutto Ecco Tre bistecche Marce Ah 20 è il massimo Ok Tutto quello che possiamo prendere Lo prendiamo Perché se abbiamo già gli slot Semplicemente li riempiamo Il problema è che non abbiamo slot vuoti Sapete cosa faccio adesso Mi mangio una bistecca Perché ho comunque un po' di fame La vita è piena Così posso Prendermi anche L'altra bistecca Veloci ragazzi Che non vorrei che Il proprietario della casa Ok Il massimo è 2,55 Quindi lo riempiamo Quest'altro forno Cosa c'è? Cenere Bravo E qui c'è una specie di cavo Con Un cazzo Ci sarà stato il palo Prima che si distruggesse E beh ragazzi Ci siamo fatti una Mega rapina anche oggi E la misera Mi sto perdendo però Questo è l'esterno Prenderai la pistola Perché non sia mai che arriva Qualcuno E' vero che siamo in un po' Ah guarda Ecco vedete Questo si è fatto L'area sul retro Con tutti La trivella Che sarà piena di roba No perché No perché non l'ha mai usata Qua c'è un'altra L'uscita posteriore No E allora C'era un piano di sopra Però Dispiace Dispiace Ma mi avete appena Fottuto la casa Quindi la mia vendetta Deve avvenire Subitissimo Questo era il garage Richiudiamo tutto Da fuori non si noti Che stiamo ruminando Vediamo se tante volte Oh la madonna Questo sa un sacco Di cose da costruzione Qui però Ce le ho pure io addosso In realtà Sta roba non ci serve Mai a niente Mettiamoci così ragazzi Che è più facile beccare Ah ecco Ah Altro grasso Questo serve Serve per tante cose Aspettate ragazzi Qua vanno prese delle decisioni Allora Ci abbiamo uno stock di legno pieno Prendiamo Ste dieci pelli di ieti Che sono importantissime Le vernici Non ce ne frega niente Qua i motori Occhio perché hanno Diversi valori Vedete Uno è 800 Potenza del motore Uno è 900 E io vorrei prenderlo Vorrei prendermi anche tipo Ah guardate quanti cosi rossi Che cazzo gli lascio a questo Cosa gli posso mai lasciare Che non mi serva adesso Sul momento Tutto il legno Tutto il legno Un coso di pietre Porca vacca Ragazzi Anche le ambre Non sarebbe male Portargliele via Perché ho così poco spazio No Gli devo mollare giù Un sacco di roba Ragazzi Gli devo mollare giù Tutti sti ferri Tutti sti ferri I tavoli No i tavoli No Mai Le ceste Porca boia Facciamo così Prendo le ambre Sti altri 25 assi Visto che gli abbiamo lasciato giù Il legno intero Questi 78 maledetti Potrei guadagnare uno slot Usando il suo forno Per cuocere i nostri 30 cosi Li metto insieme E poi porto via Tipo un motore Non lo so Una cosa del genere Ok ragazzi Lo sto facendo Sto facendo una loscheria Mi sto servendo Della casa di sto tizio Per cuocere i nostri 30 cosi rossi Così li uniamo Guadagniamo un altro slot Vediamo un po' cosa fare Perché questo ha una casa ricca Ad esempio Che cosa potremmo rubare Potremmo rubare Per dire Allora la ruota Le ruote sono rare Soprattutto bisogna trovarne 4 E' più difficile ancora del motore E prendiamo anche il motore Perché noi Come avevamo detto Ci hanno rubato il motore della macchina Ma noi volevamo un quad in realtà Perché siamo da soli Ed è più agile il quad Quindi direi che il ratto Potrebbe andare a buon fine così Sperando che non arrivi adesso il tizio E ci sgami qua A cuocere Bellamente Nel suo forno Vediamo quanto manca E manca ancora un pochino Bisogna tenere presente Ragazzi Che se arrivano adesso Qualcuno e ci ammazza Noi tutto Quello che vedete Lo perdiamo Quindi dovremmo cercare Di non morire Piuttosto facciamo i nomadi Andiamo sempre in giro Questo qua Si è trovato Si è fatto la casa Veramente in un bel posto Mi piace tanto E' super nascosto Tra l'altro Fammi vedere se è stato furbo Si è stato furbo Perché è tutta No Qua in fondo No Che stupido Ricordiamoci che sto fesso Anche se metterà un palo Potremmo sempre distruggerli Questo coso qua E entrargli dentro casa Perché vedete che non è nello stesso quadrante Secondo me lui non lo sa neanche Quindi abbiamo un pollo tra noi Ragazzi mi raccomando Ricordatevelo Come va qua Dai ragazzi Sbrigatevi Basteranno tutte queste benze qua Per fare tutto Secondo me si Avevamo bisogno di 100 cosi rossi Per farci l'attrezzo Per smontare i veicoli E adesso li avremo Quindi la caccia ai rossi Potrebbe essere finita Ma dobbiamo un attimo Ricapitolare Quali sono i nostri bisogni Cosa ci serve Queste pelli di Yeti Sono poche Per fare Vediamo Usiamo pure il suo tavolo Equipaggiamento Grey winter jackets Servono 20 cosi Cosi rossi 20 Pelli di Yeti Quindi noi ne abbiamo tolte solo 10 Ma è già tanto però Perché avete idea di quanti Yeti vanno uccisi E poi ci serve un arco però Per ammazzare gli Yeti Arco e frecce Perché se no Non va mica bene Perché con le pistole Poi arrivano tutti gli altri animali in giro Sprechiamo proiettili Quindi con le frecce Va meglio Ok Spegniamogli il forno Che smette di far casino Abbiamo 108 cosi rossi 100 ci servono solo per Per l'attrezzo Quello lì Ma vabbè Qui li abbiamo capito Che si trovano Adesso ragazzi Abbandonare subito la nave E vabbè Vogliamo uscire da dietro Usciamo da dietro Ricordiamoci Dov'è sto tizio Perché ha la casa Posizionata molto Molto male E possiamo Praticamente Distruggergli L'estremità Lì in fondo Vicino al garage Anche se si mette Il palo Importantissimo Ragazzi Pistola alla mano E andiamo Non vi dico Diamo un altro sguardo All'accampamento qui Perché tanto Non abbiamo slot liberi Per collezionare roba Quindi ragazzi Adesso L'unica cosa Che ci tocca fa È trovarci Un altro posticino Per farci un buco E nascondere un po' di roba Ma nasconderla bene Però Adesso non vorrei andare Troppo Dove fa freddo A dirvela tu Ma è il rumore del vento Ci sono Sti nuovi rumori Che ragazzi Mi fanno un po' di paura Scusatemi A volte mi guardo intorno Perché mi cago addosso In realtà Abbiamo una combinazione Fra un adder E una blade Che non è neanche male